Il progetto Cuore al Via Oggi all'ex Torretta Covid dell'ospedale di Campobasso ha una valenza internazionale gestito e organizzato dalla Cattedra di Igiene dell'Unimol diretta dal professor Giancarlo Ripabelli in collaborazione con la cardiologia e la medicina di laboratorio del Cardarelli verranno acquisiti importanti dati epidemiologici per definire programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie cardio e cerebrovascolari. Consiste sostanzialmente nell'arruolamento di 200 soggetti, fortunati soggetti perché vengono selezionati in maniera casuale dalle liste Istat. Tutta la selezione dei partecipanti è stata fatta dall'Istituto Superiore di Sanità e queste persone verranno sottoposte ad una serie di indagini sia da un punto di vista comportamentale, per esempio stili di vita, attività fisica, ma anche da un punto di vista medico e clinico per esempio pregresse patologie o familiarità di alcune patologie. Queste stesse persone verranno anche sottoposte ad un ECG, ad un elettrocardiogramma e a loro verrà prelevato del sangue, le urine delle 24 ore e verrà valutato il numero di passi che compiono durante la settimana. Negli spazi dell'ospedale Cardarelli i medici che si stanno formando nella scuola di specializzazione di igiene e medicina preventiva sotto la supervisione di Ripabelli stanno raccogliendo dunque i dati. Tutto questo serve a stimare quello che è il rischio cardiovascolare in questi soggetti da estendere poi più in generale a tutta la popolazione italiana. Questa indagine epidemiologica si svolge nell'ambito di una più ampia indagine europea e servirà a stabilire e a definire quelle carte del rischio cardiovascolare che oggi vengono già utilizzate ma che derivano dai precedenti progetti. Fondamentale la prevenzione quando si parla di salute del cuore. Diciamo che il Molise presenta dei particolari fattori di rischio. Noi sappiamo che è una regione caratterizzata da un sovrappeso consistente anche con un'obesità, malattie dismetaboliche. Abbiamo una buona quota di diabetici. Queste sono tutte condizioni che rappresentano dei fattori di rischio per la mortalità e per le malattie cardiovascolari. Abbiamo di recente visto i risultati dei dati del registro tumori. In Molise abbiamo una condizione che rientra più o meno nella normalità. Sulla patologia cardiovascolare è importante che ci sia un approfondimento.